Cari amici, per questa edizione è tutto, non resta di salutarti con un augurio di rivederti il prossimo anno con una nuova edizione del Gigi Quest. Chiudiamo dunque con un simpatico firmato che, in pochi secondi, riassume un buon merito di attività e movimento nel nostro amato canso. A rivederti e come direte può qualche mai, allegria! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!